Buongiorno a tutti, mercoledì 14 giugno, benvenuti al primo appuntamento con l'informazione di Fanotv. Ma come al solito andiamo a vedere chi si festeggia oggi. Oggi si festeggia santo Eliseo profeta. Eliseo è stato un profeta ebreo antico la cui vicenda è narrata nella Bibbia, è considerato un uomo saggio e onesto anche dalla religione islamica presso la quale è chiamato Al-Yasa. Passiamo alle previsioni del tempo. Peggioramento con pioggia in intensificazione su tutta la regione e temporali dal pomeriggio sui Sibillini in attenuazione serale. Oggi il tempo non è più come quello dei giorni scorsi, domani avremo una giornata molto piovosa, abbiamo un minimo 19, massimo 27 gradi, ma il weekend ci concede un bellissimo sole. Venerdì, sabato e domenica e fino a lunedì arriveremo addirittura a delle temperature massime di 30 gradi. Il sole oggi è sorto alle 5.24 e tramonterà alle 20.49. Ed andiamo a vedere la segna stampa di questa mattina. Partiamo subito con il Corriere Adriatico. Il Corriere Adriatico titola la prima pagina con Maxi Appalti, Incubo, Rincari. Entro la fine del mese verranno affidati i lavori per la riqualificazione di Palazzo Mazzolari Moschi. Prezzi lievitati. Il sindaco Ricci teme che i fondi PNRR non bastino a completare lo storico recupero. Ritroviamo il servizio a pagina 6. Eccolo qua. Gli è stato dato grande spazio, grande respiro. Mazzolari Moscalvia ha aperto il Maxi Appalto, ma con l'incubo, rincari, prezzi lievitati, Ricci teme che i fondi PNRR non bastino a completare il recupero. Le offerte si chiuderanno tra una settimana. I lavori affidati entro la fine di luglio. Restyling per il Palazzo, affreschi da restaurare. L'ultimo piano forse sarà anche questo restaurato. Ma andiamo a vedere la scheda. Sono 8 milioni e 630 mila euro l'importo previsto per i progetti e la ristrutturazione. Questo è stato finanziato interamente dal PNRR. Il 21 giugno si chiudono le offerte per la gara d'appalto. Il 30 luglio è il termine per l'affidamento alle imprese vincitrici. Il 30 settembre 2024 è il termine entro il quale dovrà essere concluso almeno il 30% degli interventi. Il 31 marzo 2026 sarà il giorno dei termini del lavoro. Torniamo sempre in prima pagina e vediamo la fotoimmagine. L'ultimo prodigio della neurochirurgia operata al cervello, poi allatta. Ritroviamo il servizio a pagina 5. Veramente la sanità fa dei progressi incredibili. Ecco qua, tumore al cervello. Mamma che allatta, operata da sveglia. La donna del macerattese è sottoposta a un intervento in awake surgery all'ospedale di Torrette. Mi sono sentita madre e paziente. Il neurochirurgo Trignani, ora l'intelligenza artificiale. L'intervento dice che era madre di un bambino di due mesi, gli è stato asportato un glioma alla testa, tumore che origina alcune cellule dal sistema nervoso centrale. Con questo intervento in awake surgery, cioè con il paziente sveglia, è una metodologia che trova applicazione in interventi chirurgici che interessano aree eloquenti, principalmente appunto quella neurologica del linguaggio. Il risultato è che la mamma, dopo l'intervento di tre ore, ha potuto subito e immediatamente riagasciare il proprio figlio. Torniamo in prima pagina e andiamo direttamente a Pesaro dove, spedizione punitiva, il giudice perdona quasi tutti i ragazzini. Ritroviamo l'articolo a pagina 9. Spedizione punitiva al campus. Il giudice perdona quasi, quasi, tra parentesi, tutti. 20 minorenni aggredirono 3 coetanei liceali all'uscita della scuola. In 12 di questi minorenni sono andati a processo. Spedizione punitiva al campus scolastico. Ieri la sentenza con la maggior parte degli studenti coinvolti che sono stati perdonati in tutto 12 ragazzi, in età compresa tra 15 e 17 anni. L'episodio risale al 5 febbraio 2019, quando ci fu un'aggressione pianificata nei confronti di tre coetanei degli aggressori, studenti del liceo scientifico Marconi. Torniamo in prima pagina e andiamo direttamente alla pagina di Fano dove si parla tantissimo di tutto quello che è successo nella famosa discoteca. Sabato sera, sguardi alla ragazza del buttafuori colpito da una mitragliata di pugni, gelosie e prime ipotesi sull'omicidio Tucci per il fanese. Oggi l'udienza di convalida e domani l'autopsia. Alla base dell'accusa ci sarebbe l'evidenza scaturita dal primo esame del medico legale. Tucci sarebbe stato colpito da un'enorme raffica di pugni, dunque con una certa violenta determinazione dalle testimonianze raccolte finora dagli inquirenti romagnoli che si sono avvalse anche di immagini video. Risulta che il giovane vigile del fuoco avesse deciso di trascorrere una serata in discoteca insieme a un collega di lavoro. All'interno del locale sarebbe avvenuto uno screzio piuttosto animato con l'addetto alla sicurezza, il quale avrebbe ripreso Tucci per l'interessamento verso una giovane donna intenta al telefono cellulare ignaro del fatto che si trattava proprio della fidanzata del buttafuori. Mi hanno rapinata, non era vero, ed è stata condannata. Aveva denunciato che due banditi si erano impossessati del suo cellulare. La sentenza è stata di condanna. Ritorniamo all'incidente di cui abbiamo parlato anche ieri nel nostro TG. Lo scooter disintegrato 15enne si salva per miracolo. Ha perso il controllo ed è finito contro un'auto. Un ciclomotore booster MBK si è di fatto disintegrato nell'urto contro un'automobile, una Fiat appunto che percorreva la strada Flaminia a Fano e che era diretta verso l'entroterra. L'incidente è avvenuto l'altro ieri intorno alle 21.30 all'altezza dell'intersezione con via Forcolo. Per fortuna il conducente del ciclomotore, un quindicenne fanese, è riuscito a evitare conseguenze peggiori gettandosi sull'asfalto prima dell'impatto contro la vettura. Fortunatamente il ragazzino è rimasto illeso. E restiamo sempre sulle pagine della nostra città. Per variante e federiciana il rinvio salva la maggioranza. Luzio tiene di procrastinare la delibera di autorizzazione dei due finanziamenti. A togliere le castagne dal fuoco ai contrasti che serpeggiano in maggioranza è stato ieri sera in consiglio comunale una proposta della capogruppo di Incomune Carla Luzzi che ha ottenuto il rinvio della delibera che autorizzava il finanziamento sia degli interquantieri che della biblioteca federiciana. E sempre sulla pagina di Fano mancano tre caditoi lavori lasciati a metà. Dopo il maxi allagamento dei giorni scorsi, la lettura della Lega con il capogruppo Ilari ha periodicamente denunciato le magagne di cui il percorso progettuale e realizzativo di un impianto da augurare nella Pasqua del 2019 è stato messo invece in esercizio alla fine del 2022. Ci spostiamo in Val Metauro e vediamo che in titolo di testa il tour della soprintendente tappa anche in via Vitruvio. Beni Carifano sopra luoghi di Carlo Rosi a Palazzo Zagarelli e San Domenico. Nella giornata di ieri il centro storico di Fano è stato visitato personalmente dalla soprintendente ai beni archeologici, artistici e paesaggio per le province di Ancone Pesaro Urbino. Cecilia Carlo Rosi in particolare ha visitato i beni culturali della Fondazione Carifano accompagnata dal presidente Giorgio Gragnola, dal vicepresidente Claudio Giardini, da Daniele Diotallevi, da Luciano Filippi Bracci e dal segretario Vittorio Rosati. Sempre in Val Metauro la rete acquedottistica perde un terzo della risorsa potabile, convegno sulle possibili soluzioni tra laghi, pozzi e il rinnovo delle tubature. La rete acquedottistica provinciale perde un terzo dell'acqua potabile. Che fare? Le domande sono è possibile realizzare la rete lungo il metauro contro la siccità? L'utilizzo dei pozzi profondi rispetta i tempi di ricarica? Questione bollette tra utili di gestione e rincari per gli utenti? Che cosa non va? Novità per la depurazione? Queste sono tutte le domande emerse nel dibattito che c'è stato a Colli al Metauro organizzato da Cristian Bellucci, presidente dell'Associazione Culturale Liberamente e con Michele Ranocchi, direttore di AATO. Così sono state poste tutte queste domande per capire se ci sono delle risposte. Ci spostiamo in Val Cesano, parcheggi blu in zona mare da domani e fino a settembre. La realizzazione su 1200 stalli, almeno 800 diventeranno a pagamento a Marotta. Da domani entrerà in vigore la sosta a pagamento nella zona mara e lo sarà fino al 15 settembre. Le linee blu riguarderanno circa 800 dei 1200 stalli presenti nella fascia tra la ferrovia e il lungomare, all'altezza del Residence Le Vele, fino ad arrivare al nord del Camping Gabbiano. Sempre in Val Cesano si sottolinea il dissesto, fani e smottamenti, siamo abbandonati. Prendetevi cura anche di noi, a volte ci sentiamo abbandonati. È il grido d'allarme di una residente che abita lungo Via La Coppa, seriamente preoccupata per i ripetuti smottamenti e le frane che stanno cambiando il paesaggio nella Valle dei Tuffi, nella zona intorno al santuario della Madonna delle Grotte. L'acqua caduta nell'ultimo mese ha infatti reso la collina più esposta a rischio di smottamenti. Ci spostiamo sempre sul Corriere Adriatico, siamo ancora alla rassegna stampa del Corriere Adriatico, a Senigallia, condannato per violenza sessuale, Predieri si è consegnato in carcere. Confermata la pena di 4 anni e 3 mesi, il 37enne si è presentato a Villa Fastigi, dovrà risarcire la vittima, la sentenza si è consegnato proprio ieri mattina nel carcere presarese di Villa Fastigi, Alessandro Predieri, il 37enne senigalliese, condannato in via definitiva per violenza sessuale a 4 anni e 3 mesi. Tra le presunte vittime c'era la moglie, Jessica Bertolini, che comunque l'ha sempre difeso, e un'altra che non ha voluto procedere nei suoi confronti. Solo una donna si è costituita parte civile, testimoniando contro di lui per gli abusi subiti. E passiamo invece all'allarme ad Arcevia, cinghiali anche sul corso. Il sindaco Perti Caroli chiede la convocazione di un tavolo con gli enti coinvolti. Il sindaco di Arcevia chiede la convocazione e ce li siamo ritrovati anche sul corso. La presenza dei lupi, che è minore ma c'è, è poi una diretta conseguenza dei cinghiali che seguono per cacciarli. Ed ancora Senigallia, albero pericolante, strada chiusa, SOS in via 4 novembre, arrivano i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Dal Corriere Adriatico passiamo a vedere il resto del Carlino. E vediamo il titolo di testa, spedizione punitiva al campus, il giudice perdone a nove ragazzi, solo uno sarà processato. Abbiamo ritrovato lo stesso identico articolo anche nel Corriere Adriatico. Ed ecco qua il titolo di testa, l'ho ucciso col pendolo 50 volte, così il buttafuori fanese ha massacrato il vigile del fuoco. L'aveva accusato di aver infastidito la fidanzata. Il resto del Carlino dedica moltissimo spazio a questo omicidio. Le ultime ore di Giuseppe Tucci faceva battute, non era molesto. Il racconto di una testimone che ha visto il 34enne al frontemare. Cercavano di rianimarlo con il defibrillatore. Le voci nel quartiere dell'ex arbitro, incredibile, anche qui ripetono, non sembrava una persona violenta, però purtroppo il vigile del fuoco è stato ucciso, infatti lo ritroviamo qua. L'ite per una ragazza e poi il pestaggio shock. L'ha colpito 50 volte, quindi insomma così tranquillo questo personaggio sinceramente non era. Il buttafuori ha accusato Tucci di aver sbirciato nel cellulare della fidanzata e l'ha allontanato dal locale. Il 34enne è tornato e così è scattata l'aggressione. Un delitto veramente ferato che insomma lascia un po' così sconvolti per queste cose che succedono e che purtroppo non dovrebbero succedere. Ma torniamo alla pagina principale e invece il resto del Carlino dedica anche uno spazio a Mondavio. Rina muore nel giorno in cui taglia il traguardo dei 102 anni. Ritroviamo l'articolo a pagina 14. La pagina 14, eccolo qua. Muore il giorno che ha compiuto 102 anni. Mondavio il destino sceglie per Rina la stessa data di nascita e morte. Pensate, il cordoglio del sindaco Zenobi. In prima pagina viene poi messa in evidenza Baia Flaminia. Vandali scatenati servono controlli. Si ritrova al servizio a pagina 4. Vandali alla Baia, panchina demolita a colpi di mazza. Chiediamo controlli. Rotto anche un totem informativo destinato all'accoglienza turistica. Il presidente Poderi potenziamo le videocamere per evitare il degrado. Ferri confersercenti. Inoltre è prioritario agire sulla raccolta dei rifiuti. I gnoti si sono anche intrufolati in biblioteca. Hanno forzato il distributore delle bibite per rubare pochi spiccioli. Qui ritroviamo sempre l'aggressione al campus. Perdonati nove ragazzi, solo uno è stato inviato a giudizio. E la notizia della città di Pesaro. Un argomento di cui avevamo anche parlato nel nostro telegiornale con una bella intervista. Il mare si mangia file di ombrelloni. Fate qualcosa, andrà peggio. Stefano Tombari, dei bagni Gilberto. Non me la prendo con nessuno, ma servono interventi. La spiaggia che se ne va, lo dice sorridendo, ma qua la situazione diventa drammatica. Anche di questa cosa ne abbiamo parlato tanto Fano, Ponte Sasso, l'erosione, il degrado e la rabbia. Il titolare dei Bagnalda, ho già rinunciato, ha 80 ombrelloni, ma le scogliere dove sono? Tutti promettono, ma nessuno mantiene. È un fiume in piena, Marco Mastro Giacomi, titolari dei Bagnalda per lo stato di abbandono in cui si trova la zona mare di Ponte Sasso. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è lo scalino di 30 centimetri che, con il mare leggermente mosso, l'altro ieri si è formato lungo le spiagge della zona. Al mare quest'anno si è mangiato nelle cinque concessioni interessate. Tantissime, dalle due alle tre file di ombrelloni. Mastro Giacomi fa notare anche come dal 16 maggio, quando ha esondato il rio Crinaccio a Ponte Sasso, nessuno ha pulito il bordo strada lungo la statale, ancora pieno di fango. E passiamo alle pagine della nostra Fano. Ed ecco qua, stiamo tutti aspettando il Burmerang Festival, lo sballo degli anni 80. All'Ido, operazione nostalgica con quattro serate scoppietanti di musica, ospiti, film, sport, dai pezzi di Vasco ai gol di Totò Schillacci. Ieri, proprio sul nostro canale, c'è stato uno speciale dedicato al Burmerang Festival. E vorrei ritrovare lo stesso articolo, sempre dedicato al Burmerang Festival. L'avevo, niente, non lo trovo. Quindi rientriamo comunque sul, torniamo lo stesso sul resto del Carlino. In Zola Rido per tre giorni si riavvolge il nastro del tempo e si torna ai mitici anni 80 e 90, torna allungato nel tempo, nello spazio, la edizione del Rewind Festival. All'80 e 90 che porta fanno le leggende di quegli anni per ripercorrere i fasti di un'epoca indimenticabile attraverso personaggi, storie e oggetti che poi sono diventati dei cult. Si parte domani allo Chalet del Mare dove andrà in scena aspettando Burmerang, mentre sul palco centrale del Lungomare Simonetti, un DJ set, darà il benvenuto ai primi food track che stazioneranno fino a domenica. Si è già parlato poi che venerdì 16 ci sarà invece Cristina D'Avena e sabato invece incontreremo anche Baccini. Andiamo a parlare anche di Urbino, delle pagine di Urbino, Urbino, bus via dal centro alle 18, gli anziani sono spiazzati, l'ultima corsa della linea Mazzaferro piantate alle 17.51 e dopo si può andare a Borgo Mercatale ma c'è chi si lamenta. E c'è stato anche il traffico in tilt per l'asfaltatura, sempre ad Urbino, 4 km di coda. I lavori dell'ANAS verso il Sasso hanno avuto ripercussioni fino alla Galleria della Bretella e oggi si replica. Passiamo a Montefeltro dove il sempre resto del Carlino evidenzia in pagina lavori a Palazzo Ducale di Urbino alcune stanze saranno chiuse. Questo avverrà dalla prossima settimana. I fondi del PNRR consentiranno interventi molto importanti, migliorerà l'impiantistica, museo ancora più internazionale. Si avvicina a grandi passi l'inizio dei lavori di riallestimento del piano nobile del Palazzo Ducale. Il museo diretto da Luigi Gallo informa che dalla prossima settimana alcuni ambienti saranno chiusi proprio per l'inizio del cantiere. Parte delle sale che da sempre costituiscono il percorso di visita verranno chiusi al pubblico per i lavori di riqualificazione, revisi possibili, grazie anche ai fondi del PNRR. Abbiamo, credo, visto tutte le notizie importanti. Andiamo anche a vedere questa bella iniziativa di oggi. Arriva la mille miglia, spettacolare la sfilata. Saranno 420 le auto d'epoca tra le 8.30 e le 14. Oggi l'Emilia Miglia farà tappe in città con le sue 420 auto d'epoca. Il passaggio a Pesor di una delle competizioni motoristiche più suggestive al mondo è previsto tra le ore 8.30 e le 14.00. La carovana percorrerà la statale 16 Adriatica, attraverserà Porta Rimini per dirigersi poi in via Passeri. svolterà poi sulla via Branca e sfilerà fino in Piazza del Popolo. Con questa notizia abbiamo visto la rassegna stampa di oggi, 14 giugno. Io a questo punto vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo domani sempre alle ore 7 su Fano TV. Grazie e buona giornata.